...spettinata, mia permuta, dai a nonina, ecco che non ce l'avevo fatto vedere Franco, eh? Non ci pensate, la muscula non c'è più vuole adesso, alza un po'. Ma guarda, che correzioni sono, non lo sento, guarda, 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 guarda. Vieni, pre Ming, guarda. Che fai? Forenzo? Orenzo? Forenzo? come si va a fare il rivema no 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 Sì, adesso sì, vabbè. Che fai? Che fai? Vai dal nonno? Vai dal nonno, vai! Vai dal nonno! Vai dal nonno! Corri, 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 corri! Corri, corri dal nonno, corri! Vieni! Chiocchi! Chiocchi! Cucu! 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 Chiocchi! Chiocchi! Era lì con il dito nella presa. E poi che succedeva? Io rimango senza piazza dove succederanno queste cose. Non credete capire? Qui c'è troppi pericoli con le prese. Chiocchi! Qui c'è? Vai! Dove va allora? Dove? Oh, non ho paura! Vai alle prese, vai! Vai alle prese! Corri, 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 corri! Corri! Vai alle prese! Ecco la difesa delle prese! La guardiana delle prese! Grazie a tutti.